Il 4 marzo si vota anche per la presidenza della Regione Lazio. La candidata del Movimento 5 Stelle è Roberta Lombardi. Allora andiamo a vedere quali sono proprio le proposte del Movimento per il Lazio. Sanità, famiglia, lavoro ed imprese. Questi i punti principali del programma della candidata alla presidenza della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi. 44 anni, romana con origini ciociare, come lei stessa si autodefinisce, la deputata pentastellata concentra la propria attenzione anche sul tema dei rifiuti. Bisogna fare un piano rifiuti che per noi ovviamente sarà orientato verso zero rifiuti, recependo quello che è il programma, il progetto del Comune di Roma che è andato in via di attuazione proprio in questi ultimi mesi. Uno dei cavalli di battaglia della Lombardi è il taglio, pure nel Lazio, di vitalizi e privilegi. Sì, perché tra l'abolizione dei vitalizi e il taglio delle consulenze esterne e dei dirigenti esterni risparmieremo in cinque anni di consigliatura circa 200 milioni di euro, che significa avere nuovi macchinari tipo le PET per le diagnosi oncologiche e avere la possibilità di assumere nuovo personale medico, infermieristico e per il socio sanitario. La candidata del Movimento 5 Stelle ha più di qualcosa da rimproverare al governatore uscente del Lazio, Nicola Zingaretti. Di aver privilegiato un ipotetico rientro dei conti, che non c'è stato perché la spesa sanitaria è stata crescente in questi anni, e aver tolto dal territorio sanità pubblica per sostituirla con sanità privata.